di Medici Senza Frontiere e Joao Pedro Stedile del Movimento Sem Terra. Papa Francesco, traigo un abbraccio forte di tutto il sentiero del Brasile. Papa Francesco, vi porto un abbraccio forte di tutto il popolo Sem Terra del Brasile. Siamo uniti e preghiamo per te. Porto anche le parole del nostro Vescovo, il Vescovo Sem Terra, che è già partito purtroppo. Ci ha detto, maledette siano tutte le ricinzioni, maledette siano tutte le proprietà private, che ci impediscono di vivere e di amare. Grazie.